Musica Buongiorno, benvenuti al nostro TG del mattino. In Molise scende ancora l'indice RT ed è ora sotto l'uno. Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale del ministro Speranza. Il Molise da lunedì lascia il rosso e passa in arancione. Sul fronte dei contagi, ieri 62 nuovi positivi, c'è anche una vittima, è un 76enne di Boiano e il servizio è di Enzo Luongo. L'indice RT del Molise continua a scendere. Secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità è ora a 0,89 e dunque per la prima volta dopo settimane scende sotto l'uno, mentre quello nazionale è a 1,16. In Italia solo quattro regioni e tra queste c'è il Molise, sono sotto l'uno. La regione da lunedì passa dal rosso all'arancione, la decisione ufficiale ed è stata comunicata dal ministro Speranza. Sul fronte del bollettino quotidiano sono 62 i nuovi positivi su 762 tamponi processati. Il tasso di positività è all'8,1%, quello nazionale è di poco inferiore, 7. Una sola vittima, un 76enne di Boiano che era ricoverato in malattie infettive, 115 i guariti. Per quanto riguarda i ricoveri, 8 nuovi pazienti negli ospedali e nessun dimesso. Complessivamente sono 113 pazienti ricoverati tra Cardarelli, Santimoteo, Gemelli Molise e Neuromed. Di questi 16 sono in terapia intensiva. Infine i contagi nei comuni, nessun dato elevato. Il centro con più casi è Termoli, con 6 positivi, poi 5 casi a Venafro, Iserni e Santa Croce, 4 a Campobasso, Campomarino e Petacciato. E a Toro, dove nelle ultime settimane si è verificato un cluster rilevante che ha coinvolto anche la scuola, nella serata di ieri il sindaco Roberto Quercio ha reso noto di essere lui stesso positivo insieme a tutta la sua famiglia. E ora parliamo di vaccini, perché anche in Molise da ieri pomeriggio è ripresa la somministrazione di AstraZeneca al Palahunimol di Campobasso, dove si vaccina il personale della scuola. Tante persone in attesa e anche qualche polemica. La cittadella dell'economia invece agli anziani viene somministrato il vaccino di Moderna. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. Dopo il via libera dell'EMA e dell'AIFA al vaccino AstraZeneca, ieri è ripresa la somministrazione del siero destinato al personale della scuola e alle forze dell'ordine. A Campobasso, gente in fila, al Palahunimol in attesa di essere vaccinata, nessuna defezione, nessuna rinuncia. Tutti quelli che si erano prenotati si sono presentati ieri pomeriggio, ma non sono mancate le polemiche per la lunga attesa, il freddo e il limite dell'assembramento. Fanno le prenotazioni per l'orario e poi chi prima arriva fa, ci tengono tutti fuori al freddo. Quindi c'è il numero di prenotazione? C'era un orario, però l'orario non è stato rispettato. Adesso chi prima è arrivato l'ha fatto. Adesso la prenotazione è diversa. E poi si lamentano che ci sono tante persone assembrate, ma se tu rispetti l'orario e mandi via quelli che vengono prima dell'orario, non c'è assembramento. Quindi vi sono passati davanti in sostanza? Certo. E adesso conviene aspettare? Eh, devo aspettare. Voi dovete fare AstraZeneca e da Termoli venite? Sì, certo. Perché non ci hanno messo un punto a Termoli per gli insegnanti. Un ospedale, un palazzetto dello sport, tante strutture. E lei ci deve far accompagnare da qualcuno perché se poi dopo un po' dopo la puntura ha qualcosa, dobbiamo fare 80 chilometri. Se vi sembra possibile. Lei è preoccupata signora, dopo tutte queste notizie comunque lei non ha deciso di farlo ugualmente? Certamente. E lo devo fare. Lo devo ai ragazzi, lo devo ai miei nipoti e quindi lo faccio. Ci sono molte persone perché quelle con quattro giorni che sono stati bloccati adesso stanno facendo a man bassa. Quindi a voi arriva noi, vi è arrivato l'appuntamento? Noi ci è arrivato l'appuntamento e ci siamo presentati oggi all'orario dell'appuntamento. Alle 18 però c'ho ancora 70. Prima di lei? Alle 6 meno 10, c'ho il 77 come numero. Lei da dove viene? Da Toro. Il vaccino si deve fare allora a Strasena? Sì, si deve fare. È l'unico che possiamo fare noi del personale della scuola. Non abbiamo scelto quello o quello. C'è fiducia? Sì, sì. Per forza. Anche perché noi siamo a scuola quindi di conseguenza che facciamo. Se non diamo noi l'esempio, buonanotte al secchio. Chiudiamo tutti e buonanotte. Indubbiamente poi siamo nella mano del Signore come vuole fare lui. Decisamente più tranquilla è la situazione alla cittadella dell'economia dove invece viene somministrato il vaccino di Moderna destinato agli ultraottantenni. Intanto c'è chi chiede di conoscere le procedure che vengono seguite nel caso in cui i vaccini non vengono somministrati a causa di rinunce e se esiste un elenco di cosiddetti riservisti dal quale attingere per non sprecare le dosi del siero. È tutto. Termina qui il nostro Tg del mattino. Adesso la rassegna stampa. Con Donato Mignogna in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it. Molise in arancione. C'è l'annuncio ufficiale del ministro Speranza. Poi Covid. 62 nuovi contagiati e una vittima. Tasso di positività all'8,1%. Infermieri e operatori sanitari a partita IVA scendono in campo i primari. Occorre una proroga di almeno sei mesi. Isernia collettiva d'arte per l'anniversario della morte di Dante. Reddito di cittadinanza denunciata per truffo a famiglia che non aveva diritto. Isernia tesoreria comunale alla BCC di Roma. Calenda assessore della Lega di Termoli prende le distanze da Tome e rivendica una rappresentatività in basso Molise. Frosolone emergenza Covid. L'elenco degli esercizi convenzionati per i buoni spesa. Poi Ricci da Pollonio e Saia. Concordi necessari a un'azione di rilancio degli ospedali di Isernia, Venafrio e Agnone. Ancora vediamo le altre notizie. Emergenza Covid. Il comune di Castropignano effetto a interventi di riqualificazione dell'edificio scolastico. Mozione di sfiducia a Toma sarà discussa in aula mercoledì. E poi Termoli Asrem firma. La convenzione per Palarino centro vaccinale potrebbe aprire la prossima settimana. E ancora Isernia vaccinata a casa dai carabinieri la signora Giuseppina di 107 anni. Macchia di Isernia parte il programma di riqualificazione urbana. E ancora ci sono le altre notizie sul giornale del Molise. GAM convocato per lunedì il confronto con il nuovo assessore Filomena Calenda. E poi Acqua col diretti Molise parte dei proventi della cessione alla Puglia per risanare i consorsi di bonifica. Ci sono poi le adesioni per il personale scolastico over 65 per le vaccinazioni. Vediamo come titola Futuro Molise Torre Covid il gioco delle marionette. Scrive testualmente l'impresa Sbugiarda Florenzano. Poi Colle a Volturno abbiamo la giornata mondiale dell'acqua. La 28esima giornata mondiale dell'acqua. Evento ambientale a tema promosso da amministrazione comunale e CAI sezione di Isernia. E poi dati in miglioramento il Molise torna in zona arancione da lunedì le nuove regole. Il retti nazionale è a 1,16. Vediamo come titola Primo Piano Molise il quotidiano del Molise. Una vittima e 62 contagi, 9 ricoveri e altri due pazienti in rianimazione. Satura la terapia intensiva del Cardarelli. Il tasso di positività sale all'8,13%. Aumenta il numero degli ospedalizzati in area medica Campobasso e Termoli. 113 degenti assistiti nei nosocomi processati. 762 tamponi, 115 sono i guariti. Molise dunque arancione. Riaprono scuole, negozi e parrucchieri. Ordinanza in vigore da lunedì. Toma lascia in rosso i comuni maggiormente colpiti dal Covid. Molti sindaci stanno pensando di prorogare la didattica a distanza. Gravina intanto decide in giornata. E a Campobasso misure di vieti, giro di vite del prefetto. Controlli rigorosi. AstraZeneca tra ansia e dubbi. Ripartite ieri le vaccinazioni al Palau Nimol. Il monitoraggio si abbassano. Indice RT che ha lo 0,89. Incidenza per 100.000 abitanti. E 140. Poi ancora le altre notizie. Boiano super enalotto. Fortunato scommettitore. Centra il 5 e porta a casa poco meno di 100.000 euro. A Termoli provoca un incidente. Fugge e denuncia il furto dell'auto. Incastrato un 49enne. Finisce nei guai. Giovani Gracili. Invece il titolo del contributo. Il punto di Sergio Genovese. Poi ancora vediamo le altre notizie. Sanità commissariata. Il Molise può attendere. Il Consiglio dei Ministri si incaglia sul condono. Rinviata la nomina. Scrive primo piano Molise. Di Floride Grassi e della Sub. Privati accreditati. Niente tagli a Neuromed e Gemelli Molise. Il Tar raccoglie il ricorso. E annulla i decreti che riducevano il budget. E ancora vediamo le notizie di Sport. Calcio Serie D. Campobasso Mancini dall'inizio al Ferrante. L'interrogativo. Derby. Prosperi blinda la sua difesa. Eccellenza. Il comitato vara un calendario riformulato con due turni infrasettimanali. Poi Futsal di Serie B. La Chaminade riceve il Canosa vicecapolista. Le prime pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo la Repubblica che titola così. Vaccini pronti a fare da soli. E' il virgolettato. Il premier dunque avvisa. L'Unione Europea in caso di nuovi problemi apre a Sputnik e annuncia che si farà inoculare AstraZeneca. Critiche alle regioni. Appena possibile ripartiranno le scuole. E alla Lega tutti hanno bandiere ma serve buonsenso. Ricominciano le vaccinazioni poche disdette. Via Libera al decreto sostegni da 32 miliardi scontro sul condono fiscale. E poi qui vedete la foto. Le vaccinazioni AstraZeneca riprendono in tutta Italia. E qui la foto riguarda il centro La Nuvola a Roma dove c'è la coda delle persone che devono vaccinarsi. E vediamo poi gli altri approfondimenti. Ancora perché vanno capite le nostre paure fuori controllo e c'è l'intervista. Confischeremo le fiale di chi non consegna, così dice Timmermans. Vediamo Mappamondi. Stati Uniti, Cina. Il gelo in una stanza nel primo vertice dell'era Biden. Da Repubblica passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Draghi più fondi e più in fretta. Così dunque il Premier vi è libero al decreto sostegni e dice Draghi mi vaccinerò con AstraZeneca, scontro sul condono fiscale. La prima conferenza stampa o il coordinamento dell'Unione Europea funziona o si va da soli, dice. Riparte bene la campagna, solo il 10% di disdette. Poi Cassino, omicidio di Serena Mollicone, processo al via dopo 20 anni. Imprese tasse scuola, ecco le nuove regole dunque. Le misure e il vertice show delle accuse incrociate tra Stati Uniti e cinema. Il Fatto Quotidiano, Draghi ammette, sì è un condono del decreto legge sostegni. Conferenza stampa con 150 minuti di ritardo. Anche lui di sera, scrive il Fatto Quotidiano, vorrebbe sanare solo le cartelle infra 3.000 euro. Ma poi vincono i partiti, lega in testa, il tetto resta 5.000, decreto legge copiato dal Ristori. Il MES non è una priorità e poi ripartono i vaccini. AstraZeneca ok, ma ora l'Unione Europea va in ordine sparso. E ci sono tutte le altre notizie. Vediamo adesso libero. Muoiono gli anziani ma vaccinano i giovani. Potevano salvarne migliaia. Uno studio rivela che se avessimo scelto di somministrare gli antidoti, in base alle fasce d'età, i decessi sarebbero diminuiti del 54%. E poi ancora AstraZeneca ha vinto tutto tranne la paura, scrive Vittorio Feltri. La gente non si fida. E poi carità di Stato per le imprese ferme per Covid, scrive Sandro Iacometti. Coperto il 5% dei danni. Come punire chi non si immunizza. Regioni e virologi vogliono leggi severe. Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico, aiuti, condono, lavoro, via al decreto. Draghi dice una risposta alle povertà. Segnati 32 miliardi dall'8 aprile in pagamento. 11 miliardi per le imprese al turismo 1,7 miliardi. Il Premier dice un primo passo. Quest'anno non si chiedono soldi ai cittadini, si danno. Poi vaccini, 7 mila imprese mobilitate. La pandemia ruba le braccia straniere alla nostra agricoltura, scrive ancora. Il Sole 24 Ore. E adesso vediamo la prima pagina invece del messaggero. AstraZeneca riparte negli hub. Più file che defezioni. Rinuncia il 5% in Francia e il Siero solo agli over 55. La Sardegna non è più zona bianca. Asse con la Germania intanto per Sputnik. Lazio arancione in forse dal 29 marzo. Effetto Covid. Case vacanze e corsa vicino alle grandi città. Poi quest'anno i soldi si danno. Il virgolettato Draghi annuncia il decreto sostegni. 11 miliardi all'economia entro fine aprile. Fondi a famiglie e turismo. Le scuole riapriranno per prime. Scontro cartelle esattoriali. La stampa di Torino invece titola così. Draghi più ristori. Ma c'è il condono. Dall'8 aprile 32 miliardi di aiuti. Il Premier annuncia. Farò l'AstraZeneca è una protezione sicura. Scontro con la Lega sulle cartelle. Di Maio Media. Il blocco dei licenziamenti fino a giugno. La cassa si allunga. Nord Italia in rosso fino a metà aprile. E dunque emergenza Covid. Ora 1 su 3 è diventato Novax. Scrive ancora la stampa. Il tempo. Vieni avanti. Decretino è il titolo. Varati mini indennizi. Mini indennizi. 32 miliardi stanziati per sostenere le imprese. Sono pochi e giungono tardi. Continua Franco Bechis. Solo 3 milioni di piccole aziende potranno ottenere risarcimento. Avranno in media 3 mila euro. Ma Draghi non è conte ed è sincero con gli italiani. Di più non potevamo fare. Renzi sfida letta. Il PD riformista. Lo dimostri. E poi ci sono le altre notizie. La telenovela AstraZeneca tiene ancora in scacco. L'Unione Europea. Ogni Stato ha le sue regole. Avvenire. Il quotidiano dei Vescovi. Governo di sostegno. Draghi. Risposta parziale. Ma già dall'8 aprile. Condono sulle cartelle sattoriali. Solo per i redditi bassi. Oggi vertici. Si vaccinano con AstraZeneca. Finisce il sogno bianco della Sardegna. Sarà adesso arancione. Ha approvato il decreto con 32 miliardi per aziende, povertà e lavoro. Coordinamento con l'Unione Europea. Ma senza facciamo soli. Puntualizza il premier. E poi famiglia. Un anno accanto ai fragili. L'urgenza di un rinnovamento pastorale ribadita da Papa Francesco. Nella cerimonia inaugurale. Bassetti. Ora le mafie fanno più vittime. Fermiamo i corrotti. E libera la giornata della memoria. Il mattino di Napoli. Questo è l'anno degli aiuti. Anche qui c'è questo titolo. Via libera. Il decreto sostegni. Misure per 11 miliardi. Draghi più soldi. E velocemente scontro sulle cartelle sattoriali. Passa un mini condono. Il premier annuncia. Farò AstraZeneca. Campania. Contagi da record. Vaccini più file che defezioni. E sono i numeri della pandemia. Dal mattino di Napoli passiamo adesso al manifesto. Zona verde. Il titolo in evidenza. Non c'è più tempo a agire subito. Il grido dei giovani tornati in piazza in tutto il mondo contro l'emergenza climatica. La protesta è arrivata anche sott'acqua nell'oceano pacifico. Friday for Future. Italia al governo. Vogliamo decisioni radicali. Chiedono Draghi attenzione alle bandiere. La prima conferenza stampa del premier. Decreto sostegni da 32 miliardi. Compromesso sul mini condono. Contagi in aumento. AstraZeneca si riparte. Sardegna intanto in arancione. Il secolo d'Italia. Meloni boccia Draghi proprio come Conte. D.L. Sostegni pare scritto dal PD. L'editoriale di Lucio Meo. E rottamazione delle cartelle. C'è l'accordo fino a 5 mila euro. Effetto letta. Si sente. Si vede. Crollo del PD nei sondaggi. Scrive ancora il secolo d'Italia. Il presidente tedesco premia Pfizer davanti ad Angela Merkel. Vediamo adesso la verità. Speranza alimenta il caos. Si può scegliere il vaccino. Scrive la verità. Parigi mette nuovi paletti. Regioni italiane in ordine sparso. Ripartite le iniezioni con AstraZeneca. Ma il presidente delle CSS chi lo rifiuta verrà riconsiderato per altre tipologie di farmaco. Il Nobel Krugman dice disastro europeo. E la Germania si butta anche sullo Sputnik. Grillo ritorna a far ridere con le sue regole per i talk show. L'articolo è di Luca Telese. E poi metodo Palamara no, metodo Toghe super test. Tutti così ecco le chat. Il procuratore generale di Messina sgancia una bomba atomica su CSM e ANM. Vediamo adesso come titola invece la gazzetta dello sport. è Milanic. Vlaovic più Vlasic. Scrive la gazzetta il bomber viola, il trequartista del CSKA di Mosca. I primi obiettivi per colmare il gap. C'è ottimismo intanto su Ibraimovic. Invece per quanto riguarda Donnarumma. Se Gigio non rinnova è pronto il piano B. Musso o Audero. Vediamo invece le notizie sulle altre squadre. La Juve, Pirlo, fantasia per la rimonta. CR7 è morata con due frecce. Nuova formula dunque bianconera. Ancora una nuova formula. E poi Scamacca oscura la perla di pelle. Il Genoa si rilancia. Il Parma affonda anche oggi. Intanto sfide e salvezze. In casa Inter, Covid deciderà l'ATS. Pressing dei CT per i nazionali. Ma la società vuole tenerli. Il sindaco Sala, San Siro, Zang, ora ci dica chi guiderà il club. Non bloccherò io il nuovo stadio ma devo pensare al bene di Milano. La special crisi del mago Murigno. Tottenham troppo debole o tecnico al capolinea. Si apre il dibattito. Non vince da quattro anni. Applaude i rivali. Ma cosa c'è dietro l'eclisse di José Murigno? Con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre in diretta alle 14 con il telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.